Purtroppo in Italia il discorso del figlio d'arte e solo in Italia è un'accezione negativa, nel senso che viene sempre vista come, è quasi una parolaccia, perché il figlio d'arte viene visto come quello che senza nessun merito ha l'opportunità di fare al posto di qualcuno che invece avrebbe il talento. E probabilmente in qualche caso sarà stato anche così, ma in Italia è diventato luogo comune e io sono uno che i luoghi comuni proprio non li sopporta. Fighi d'arte, il filarugio della nona edizione del Castiglioni Film Festival, la Kermes dedicata alla settima arte. Sotto l'attore del Cassero Gianmarco Tognazzi, figlio di Ugo Tognazzi che si è messa nudo prima della visione del film, non ci resta che il crimine. L'attore si è raccontato e ha raccontato suo padre. C'era questa volontà di Ugo, essendo molto assente da casa e quando era presente, era presente con gli ospiti, di portare i suoi figli a giocare sul suo terreno. Lui non ci ha mai né consigliato né obbligato né detto fatelo, anzi ci ha lasciato liberi di scegliere quello che volevamo fare e poteva essere passione o poteva essere rifiuto, a lui sarebbe andato bene ugualmente. Però era un modo di giocare, di recuperare l'assenza in casa. Infine una riflessione sull'attuale cinema. La grande abbuffata nasce intorno alla tavola in una delle tante scene quasi quotidiane che organizzava Ugo, che erano scene tra amici, che erano anche colleghi, dove si parlava di altro ma da una battuta usciva fuori l'idea di un film. Questo per dire quanto la vita e quanto la condivisione intorno alla tavola fornisse nel rapporto interpersonale tra regista, produttore, attore e sceneggiatore è l'idea del film, l'idea, lo spunto, ma era il rapporto interpersonale. Noi siamo purtroppo diventati mano a mano, che siamo andati avanti, molto più isolati, non siamo più così uniti come categorie nel costruire i progetti, non ci frequentiamo così come si frequentavano loro. E questo probabilmente al netto del fatto che erano dei talenti straordinari, un pochettino le cose le ha cambiate.